passaggio anche da fritz agenda tedesca come vediamo al nome anche ingegneri di berlin che propone da tempo per chi non li conosce fritzbox sono alcuni dei prodotti migliori sul mercato per quanto riguarda la connettività prodotti che già ci sono vedremo prossimamente sul canale in forma approfondita però se state cercando modem router prodotti appunto per la connettività di alta fascia a prezzi comunque abbastanza accessibili puoi dare un'occhiata a quelli che vi sto mostrando il top è il 74 90 che abbiamo davanti che gestisce anche linee voip volendo quindi in prospettiva anche per la fibra ottica che i vari provider stanno installando in italia può essere un'ottima soluzione azienda che comprende la propria offerta anche dei ripetitori chiaramente andiamo a vedere dall'altra parte anche qualcosa di più performante quindi che occupa un pochettino più spazio che però raggiunge chiaramente velocità molto importanti quello di cui bisogna parlare però il sistema operativo perché gran parte del del lavoro viene fatto sul sistema operativo che gestisce questi router ed è anche possibili sono funzionalità esclusive come la gestione interna per dirne una poi magari lo vedremo in forma approfondita più avanti molto semplicemente con tanti dispositivi oggi collegati sempre di più in prospettiva capita di passare da una rete all'altra di scegliere un 5 gigahertz anziché un 2,4 i fixbox offrono la possibilità di avere una sola linea che permette di scegliere la 2,4 la 5 automaticamente avrò un solo ssd sulla mia ricerca reti e selezionando il mio dispositivo sarà adattato in automatico a seconda di quanto mi trovo vicino al router o lontano e ovviamente per avere sempre la migliore prestazione possibile in termini di trasmissione e ricezione dei dati quindi si tratta di un prodotto e vedremo confrontato anche con gli altri router che abbiamo visto in precedenza sul canale per scegliere sempre quella che può essere la migliore soluzione in termini di connettività